E' bello lavorare tutti insieme per un obiettivo comune che è quello di far conoscere il Made in Italy, in Italia ma anche all'estero, i nuovi mercati che stiamo cercando di avvicinare. L'importanza del Made in Italy nasce dal valore che ha il marchio Made in Italy che ormai è diventato un marchio internazionale, è il terzo marchio più importante e quindi anche nel settore della casa ha la sua importanza partendo dal presupposto che alla casa, alla biancheria per la casa è legato comunque al design. Lavorare in Gabel è un'esperienza molto interessante come designer perché riesco a seguire tutto il processo di produzione. Quello che più mi piace di questa azienda è la possibilità di vedere come nasce il prodotto da un'idea iniziale fino poi a vederla realizzata in un prodotto che entra nelle case di tante tante persone. Il marchio Somma è il nostro marchio che si rivolge al segmento più alto della nostra clientela. Oggi propone una linea completa di tessile per la casa, quindi dai prodotti in lana come plaid e coperte alle lenzuola, copri piumini e anche gli accessori bagno, quindi asciucamani e accappatoi. Circa un anno fa abbiamo inaugurato il nuovo e-commerce del gruppo Gabel. In questo modo il cliente finale ha la possibilità di acquistare in un unico carrello tutti e quattro i brand del gruppo Gabel, Somma, Pretti e Valle Susa. È un progetto che ci appassiona e siamo certi che avrà grandi sviluppi in futuro e unirà sempre di più l'online e l'offline in Italia e all'estero. Noi cerchiamo con Gabel di rappresentare un po' tutti i gusti e tutte le esigenze del mercato, quindi abbiamo sicuramente due fortissime collezioni per l'anno che verrà. Una è Nature, che è una collezione che abbiamo cominciato a sviluppare, a creare negli anni 90, quando ancora nessuno parlava di sostenibilità o di ecologia. Noi scegliamo come policy aziendale di acquistare energia solo da fonti rinnovabili, un altro delle dimostrazioni del legame che noi abbiamo con l'ambiente e con la sostenibilità. Grazie a tutti.